Io sono Giancarlo D'Altoso, sono insegnante di batteria Pop Corner e sono qui per presentarti il mio corso. Alice nel Paese delle Meraviglie. In una mia prima lezione intanto ci conosciamo e cerchiamo di prenderci un po' in simpatia. Poi metto subito l'allievo a suonare. Ti spiegherò già dal principio un primo ritmo molto semplice e lo suoneremo sopra una base musicale. E questo per farti capire qual è la natura della batteria su quello che poi è un brano vero. E così si andrà avanti per un po' di tempo e poi magari se ti piacerà cominceremo a parlare anche di tecnica. Vi auguro un buon proseguimento con gli altri video di Pop Corner e di FF. Tempesta può essere una parola adatta? Tempesta?